Sperimentata in California la pillola preventiva anti-IDS ridurrebbe di oltre il 40% il rischio di contagio. Ce ne parla Manuela Lucchini. L'hanno già definita la pillola del giorno prima. Se presa tutti i giorni con assoluta regolarità, diminuisce il rischio di contrarre l'infezione HIV. Secondo gli studi pubblicati sul New England Journal of Medicine, le ridurrebbe del 44%, quindi non funziona su tutti. La pillola non è proprio una novità, si chiama Truvada ed è la combinazione di altri due farmaci retrovirali già utilizzati. Questo esperimento, perché di un esperimento si tratta, ha funzionato come funziona la profilassi della malaria, cioè si prendono delle pasticche prima di partire per l'Africa per evitare il contagio. In questo caso effettivamente una parte delle persone che hanno preso queste compressi di antiretrovirali non si sono infettate pur avendo comportamenti a rischio. Si può considerare una nuova frontiera della prevenzione? Beh certo non è la nuova frontiera della prevenzione, la prevenzione non si fa prendendo una compressa e a vivere la sera. La prevenzione è un'altra cosa, si tratta di cambiare i comportamenti, si tratta di proteggersi nei rapporti a rischio. Al momento comunque si è trattato solo di una sperimentazione scientifica su 2500 uomini con comportamenti molto a rischio. Per ora viene dato solo alle persone già malate e non si trova nelle farmacie.